Sono particolarmente felice di aver firmato questo accordo con una associazione Italian Digital Revolution che è fortemente impegnata non solo sul piano tecnico ma sul piano civile di utilizzare le nuove tecnologie per accrescere una compartecipazione dei cittadini, per rendere i servizi dello Stato sempre più efficienti e rapidi, cioè come si suol dire oggi in tempo reale, per offrire ai giovani l'occasione di misurarsi con nuove professioni e con modi di gestire la cosa pubblica. Per questo la nostra università è fortemente impegnata sul versante delle nuove tecnologie, non fine a se stesso ma per raggiungere risultati concreti in un mondo di così profonda trasformazione che ha bisogno quotidianamente di adeguare strutture, organizzazioni, funzioni. In bocca al lupo a tutti e due noi, Presidente, auguri perché le prime iniziative saranno significative del cammino che noi vogliamo fare.